Signora Carmela, devo fare un esposto alla polizia, alla polizia municipale, ai vigili urbani, mi dica, alla polizia? Allora, questa porta rappresenta un ingresso comune, qui è stata chiusa dall'interno con l'incatenaggio, questa porta deve rimanere accesa perché io ho diritto a entrare di qua e a stazionare qua dentro come da contratto, senza preavviso ogni volta che voglio. Iniziamo già male. All'interno, adesso non aspetto parede, all'interno dove c'è il garage, dal garage, il signore ha tolto la serratura perché vuole cambiare serratura. Addirittura, addirittura è stata lasciata la luce accesa dalla bimba perché tanto paro io. Allora, i signori dovrebbero occuparsi anche dello spegnimento della luce, purtroppo. Allora, qui la misura è colma, dottoresse. Mi dovete, io faccio un esposto tranquillamente alla polizia municipale, faccio già partire una lettera, inizio già a mandare lettere a Maria Carmen Consolini, alla mia legale, vi avviso, vi ho avvisato, vi avevo chiesto di essere presente ai lavori, voi vi fate fessi. Giorno e notte, l'aggressività della dottoressa Carmela Morana è molto pericolosa per la mia salute. Quindi, iniziamo a comandare a casa propria. Con il signore avevamo parlato di ipotizzare che gli colorasse di questo azzurro, il signore non farà nulla. Bene, poi, il signor Markle, noi aspettiamo il concreto di subaffitto e ancora non l'abbiamo ricevuto. Il signore ha cambiato in mezzo, ha già fatto cambiare la serratura al vostro manutentore con i miei soldi e non mi ha dato la chiave con la quale io possa andare in solaio. Esigo di avere entro due giorni la chiave. Nessuno ha autorizzato, il proprietario non ha autorizzato nessun tipo di manutenzione. Voi l'avete fatta a vostro, a vostre spese, mi avete impedito di essere presente, di conoscere il vostro manutentore quando avevo espresso il desiderio di essere presente. Anche perché voi mi volete ad evitare ogni possibile spesa. Siete già in ritardo di cinque giorni nel pagamento dell'affitto. La misura è colma. Sappiate, mi è stato detto, fra le altre cose, da Edward de la Cruz Paredes, che i signori fumano mare uriana, che erano in tre. E ci sono ospiti appunto che fumano droga. Droga leggere, evidentemente. Aspettiamo di avere la coppia dei contratti dell'energia elettrica, perché abbiamo intenzione, come sa già la dottoressa Maria Carmelo Consolini, di interrompere, di intestare a loro anche la corrente delle parti comuni. dal momento che hanno abusato della corrente in questi giorni. Stasera sono arrivato e c'era l'acqua ovunque, perché hanno questa mania di continuare a pulire quando non serve, a lavare il pavimento quando non serve. Quindi desideriamo capire A, se hanno messo, immesso la propria corrente, il proprio contatore è stato attivato. B, desideriamo capire se finalmente stanno usando l'acqua calda, perché fino adesso ci hanno rotto le scatole per fare dei cambiamenti quando non hanno intenzione di usare l'acqua. Allora, aggiungo, io ho bisogno di aver aperto, perché prima, dopo, durante, ogni volta che voglio passare, vengo a controllare che la luce sia spenta. Ho diritto ad andare in solaio e ho diritto a spegnere, perché purtroppo queste spese le paro io, anche se da contratto devono pagarle metà loro. Ok? Qui la misura è già colma, colma da tempo. Oltre ad altre situazioni che vi ho segnalato, tipo quella di avere tolto l'erba da qua, con un gesto mai concordato. L'unica cosa che essi avrebbero dovuto fare a loro spese era mettere la luce al passaggio automatica, cosa che i signori non hanno fatto. Per la luce qua, invece, mi atterriverò io, ma non dipende da me, dipende dalle scelte del comune. Grazie, signora Carmela Morana. Siamo partiti alla grande, esattamente con l'arroganza tipica dei calabresi, cosa che ho già vissuto con la dottoressa Miriam Sardara. Questa è una difida, io non ho intenzione di imparare nessun tipo di manutenzione, perché bastava aspettare il dottor Tommaso Gualtieri che uscisse dall'ospedale, visto che non c'è nessuna volontà di usare la caldaia, l'acqua calda, e bastava aspettare, quando aveva tempo, il professore Edward de la Cruz Paredes. Quindi, signora Edward de la Cruz Paredes, finché resterà qua, ha diritto a poter andare in garage. Qui è stata levata, non si capisce in base a che cosa, questo nigeriano cambi le serature, senza avvisare. Ok? Bene. Occhio perché con Maria Carmen Consolini possiamo immediatamente chiedere l'uscita dal contratto. Ok? Questo è fondamentale farvelo vedere. Poi, la testimonianza di Edward de la Cruz Paredes può essere proprio la sua. Ma, attenzione, attenzione signora Carmela Morana, titolare di CDM, è che siamo partiti abbondantemente col piede sbagliato. Ok? La ringrazio, dottoressa. La ringrazio. Mandi una difida con ipotesi di reato da parte mia. Grazie. Mi spiace aver parlato di lei con Materiori, Presidente del Consiglio Comunale. Anzi, in realtà ho parlato di Maria Concetta, perché il suo modo di lavorare, come già quello di... Anzi, no, devo notificare, devo notificare situazioni diverse anche ad altre persone. Allora, ringrazio, ringrazio.